Mi trovo sul lungomare di Taranto, guardate che splendore, che magnificenza, qualcosa di favoloso a partire dal castello aragonese e poi tutto il meraviglioso affaccio al mare. Dalle bellezze, facciamo vedere di nuovo queste bellezze, alle bruttezze, bellissimo questo sole, manca qualche ora al tramonto, guardate le bruttezze invece della pavimentazione rotta con mattoni mancanti e qui non è un singolo caso. Guardate il mattone rotto qui, guardate un po' avanti, eccoci, chiediamo al nostro operatore, altro mattone completamente mancante e sindaco Melucci non li vedi queste cose, già tu non giri e neanche tu assessore Ciraci. E guardate lì, ancora più pericoloso o pericoloso quanto questo, guardate un mattone completamente rotto, frammentato e immaginate come è facile per chiunque, ma i danni sarebbero a maggior ragione per un anziano che proprio in ciampa cade. Ma questo è solo un esempio perché se noi andiamo avanti possiamo camminare e vedrete altri mattoni completamente mancanti, quindi andando in lunghezza uno, due, tre, quattro, cinque, ma questi sono solo i cinque che così vi sto facendo vedere, ma ci sono altre mille situazioni incredibili. E allora, caro Melucci, ti manca l'ABC dell'amministrazione e manca anche a te Ciraci, assessore ai lavori pubblici e manca anche a te Manzulli, perché noi non vi stiamo chiedendo chissà che cosa, assolutamente no. Ma come potete voi accogliere i turisti con questo schifo? Guardate, con questo schifo, con questi pericoli, quanto ci vuole, benedetti Dio, a mettere quattro mattoni? Sapete quanto ci vuole? Si e no mezz'ora, mezz'ora. E quanto possono costare quattro mattoni? Scialacquate, sperperate, buttate i nostri soldi con i 7 milioni di Euro per il 6GP e poi non riuscite a impiegare quattro centesimi per dare un minimo di vivibilità al lungomare di Taranto? Voi non avete idea di cosa significa amministrare, voi avreste bisogno di stare anni in altre città per imparare ad amministrare, per imparare per esempio a come si fa turismo, ma mentre stavo qui l'occhio sarà la deformazione professionale, guardate, va a finire lì. E da mesi c'è stato uno sprofondamento, guardate che asfalto di merda hanno fatto, perché solo asfalto di merda va chiamato, con una ditta evidentemente incapace, una ditta di quattro soldi, perché solo una ditta di quattro soldi può fare certe schifezze. Guardate, guardate, così si fa un lavoro? Così si fa un lavoro? Che si fa? Si butta il catrame, poi si rappezza, poi sprofonda, poi metti altro catrame, guardate, guardate qui, guardate, proprio la, non so, dossi e cunette proprio, il saliscendi, guardate un po' se è normale una cosa del genere. Io dico, io non chiedo ad un'amministrazione le grandi custe, ma il minimo, il minimo, questo perché i controlli non esistono. Ora io ho lanciato questa sfida, vediamo quando, quando vi degnerete di intervenire. E voi avete il coraggio di parlare di Taranto città turistica, voi avete il coraggio di parlare di Blue Economy, voi avete il coraggio di parlare di transizione ecologica. Ma stiamo scherzando veramente? Ma ci state veramente prendendo per il culo? E basta con queste stronzate, per cortesia, basta con queste stronzate. Imparate a dare servizi al cittadino, il cittadino paga le tasse, poi il cittadino va a cadere, si spezza una gamba e poi noi consiglieri nella commissione bilancio sentiamo i vari debiti fuori bilancio derivanti appunto dalle condanne al risarcimento del danno che giustamente i cittadini hanno ottenuto. Questa è l'amministrazione Menucci, l'amministrazione del nulla, l'amministrazione dell'invivibilità urbana, altro che ecosistema Taranto. Vedete che ecosistema, vedete che buche, vedete? Ma statevi zitti e levatevi da mezzo. Grazie a tutti.